Come comune di Fiumicino siamo arrivati in circa 3 anni al 76% di raccolta differenziata, è un dato importantissimo soprattutto perché partiamo da un dato quasi completamente azzerato, quello che era la raccolta stradale era praticamente inesistente e cosa importante ormai per tracciare un bilancio è il fatto che Fiumicino è il primo comune del Lazio per numero di abitanti serviti dalla raccolta differenziata e con risultati del genere, prima di comuni, capoluogo di regione, città anche più grandi e questo è un qualcosa che deve far ben sperare e deve servire da apripista per chi ancora timidamente non si è approcciato, lo ha fatto in maniera non importante a questa nuova modalità di raccolta dei rifiuti che sicuramente non solo farà attrarre dei benefici dal punto di vista ambientale ma anche e soprattutto cosa importantissima per i cittadini dal punto di vista economico.